Vi proponiamo qui il nostro famoso gioco Grazie e Vinci per conoscere un po' in questa compagnia. Con questo gioco infatti vediamo l'opportunità di vincere tantissimi premi, denaro da min, 2.000 euro fino al massimo di 1.000.000 di euro. Dal giorno d'oggi fanno veramente comodo, ma di soprattutto chi come noi non ce ne ha tanti. Inoltre abbiamo a disposizione tantissime via 500 in palio per voi, buonissime, sempre offerte. Troppo e spino di altra mura conosciuto nell'ambiente come Pespino, il Fornaio. Abbiamo tanti buoni anche per viaggiare a Scrocco con la nostra compagnia e tutte le nostre destinazioni, quindi come sempre una bella vacanza della offriamo a noi. o in alternativa potete regalare questo biglietto alla vostra amata suocera e spedirla magari in grottiscia solo andate. Vi ricordo che l'intero ricavato va in beneficenza, l'ospedale pediatrico mai all'indirete, quindi soprattutto farete una buona azione aiutando i più piccoli. La cosa di questa settimana è che per ogni grassificio acquistato ce n'è subito uno in omaggio, quindi con 2 euro avrete ben due grassifici. il direttore che vuole provare con 10 euro, per voi ben 7 grassifici in omaggio. Quindi come sempre buona fortuna e come dicono a Siviglia, a Cattaravilla. Siviglia